Buonasera dal TGN e benvenuti a questa edizione del nostro notiziario. In primo piano la cronaca è ricoverata in prognosi riservata con un grave trauma cranico all'ospedale Niguarda di Milano, la ragazza di 15 anni investita ieri sera intorno alle 22.30 a Garbagnate Milanese mentre attraversava la strada in bicicletta sulle strisce con un altro quindicenne che è invece deceduto. Il racconto del dramma nel servizio di Alberto Carreras. Due quindicenni in bicicletta, un ragazzo e una ragazza che stavano attraversando sulle strisce a Garbagnate nel Milanese sono stati travolti da un furgone la scorsa notte. Il giovane è morto, la sua amica è grave in ospedale. L'autista, un 32enne rumeno che si è poi fermato a prestare soccorso, era positivo all'alcol test e senza patente è stato arrestato per omicidio stradale. L'investimento è avvenuto verso le 22.30 in via Kennedy a Garbagnate dove il 118 è intervenuto con due ambulanze e un elicottero. Il ragazzo, Valentino Colia, è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in arresto cardiaco ed è deceduto poco dopo. La giovane è trasportata in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano in coma. L'investitore Bogdan Pasca, 32enne, ora in carcere, era già stato denunciato diverse volte dal 2016 in avanti in seguito a controlli per guida in stato di ebrezza e senza patente. Ora è in carcere dovrà rispondere di omicidio stradale. Un cadavere è stato trovato questa mattina immerso nell'acqua di una cava nella periferia di Milano. Al momento sono ancora incerte il nome della persona. A prima vista il corpo sarebbe di un uomo. A notarlo in un'area verde nei pressi di via Caldera è stato un passante intorno alle 11.30. L'uomo ha dato l'allarme sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 ovviamente si indaga per risalire alla identità della persona ritrovata cadavere. Una parte della pavimentazione, la vedete, della galleria San Babis, un storico portico in pieno centro di Milano, si è sollevata stamattina senza un'apparente spiegazione. Sul posto, dopo l'allarme dato dal custode, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. È accaduto poco dopo le 9 quando alcuni dei lunghi lastroni in marmo hanno cominciato a sollevarsi. Temendo una perdita e per mettere in sicurezza l'area, sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco. È stata anche contattata alla sovrintendenza delle belle arti, dato il valore storico urbanistico del luogo. Giovedì le autopsie delle sei vittime dell'incendio scoppiato il 7 luglio nella RSA di Via dei 500 a Milano. Ieri sera in Consiglio Comunale la protesta sia del centrodestra sia di alcuni consiglieri della maggioranza che appoggia il sindaco Giuseppe Sala. Intanto sono sei gli iscritti nel registro degli indagati. Si svolgeranno giovedì le autopsie sulle sei vittime dell'incendio divampato nella RSA Casa per Coniugi di Via dei 500 a Milano lo scorso 7 luglio. Intanto sono sei le persone iscritte nel registro degli indagati. Le ultime due sono la presidente della cooperativa Proges, che gestisce la casa di riposo, Michela Bolondi e la vicepresidente Francesca Corotti. I due nomi si sono aggiunti agli altri quattro indagati, Giancarlo Aghinolfi, direttore generale di Proges, Claudia Zerletti, direttore della struttura, Michele Petrelli, direttore welfare del Comune di Milano e Guido Gandino, responsabile dell'area residenzialità di anziani e disabili. Tra gli indagati figura anche la stessa cooperativa Proges. Ieri sera protesta in Consiglio Comunale. Il centrodestra, fascia nera al braccio, ha esposto cartelli con la scritta basta silenzio sulla casa di riposo, accusando il sindaco Sala di non aver riferito in aula. Il sindaco aveva fatto sapere che il suo intervento ci sarà dopo i funerali che saranno a carico del Comune. La protesta ha coinvolto anche la maggioranza col capogruppo del PD, Filippo Barberis, che ha detto di trovare incredibile che in aula non ci fossero nemmeno due assessori. Insomma, bagarre in aula con sospensione dei lavori. Intanto i magistrati stanno indagando in particolare sul sistema antifumo della RSA fuori uso da un anno e la composizione dei materiali, visto che i materassi si sono liquefatti unitamente ad altri suppellettili presenti nella stanza dalla quale sono divampate le fiamme. Un decreto di controllo giudiziario è stato emesso d'urgenza dalla direzione distrettuale antimafia di Milano nei confronti di Mondialpol, una delle più importanti aziende nel settore della vigilanza privata. L'accusa riguarda l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e realizzati attraverso un assiduo sfruttamento dei dipendenti perpetrato approfittando del loro stato di bisogno. Emerse retribuzioni medali sotto della soglia di povertà, sproporzionate rispetto alla quantità e la qualità del lavoro prestato, paghe cioè di poco superiore ai 5 euro all'ora. L'indagine del PM Paolo Storari e del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano hanno fatto emergere una situazione di illegalità gravata dall'elevato numero di lavoratori coinvolti, nonché di concorrenza sleale, posta in essere dalla società. Procedimento disciplinare nei confronti di Kuno Tarfusser dopo la denuncia di una dirigente della Procura Generale di Milano per un conflitto insorto con il magistrato che ritiene errore giudiziario l'ergastolo inflitto ai coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage compiuta a erba nel 2006. La competente Procura Generale della Cassazione ha avviato il procedimento disciplinare non per la fondatezza o meno della messa in dubbio degli ergastoli, ma per il modo di farlo. A Tarfusser viene contestato, sulla scia di quanto lamentato appunto dal suo capo Francesca Nanni, di avere violato i doveri di correttezza, riservo ed equilibrio quando il 31 marzo depositò di propria iniziativa in cancelleria la richiesta di revisione della condanna definitiva dei due ergastolani, in palese violazione del documento organizzativo dell'ufficio che assegna all'Avvocato Generale e al Procuratore Generale, che in caso di dissenso ha l'ultima parola, la facoltà di richiedere le revisioni delle sentenze qualora sopravvengano nuove prove di innocenza. Il sostituto Procuratore Generale milanese Tarfusser è disciplinarmente accusato di avere appunto senza alcuna delega dal capo per mesi tenuto contatti con i difensori Fabio Schembri e Paolo Sevesi e da essi ricevuto consulenze scientifiche sulle asterite nuove prove a favore dei due coniugi, Romano Bazzi, sulla cui base Tarfusser ha poi scritto e depositato a Nanni per il successivo incontro alla Corte d'Appello di Brescia, sinora non avvenuto, una richiesta di revisione degli ergastoli inflitti alla coppia per il quadruplice omicidio avvenuto nel 2006. Cambiamo argomento, il presidente del coni Giovanni Malagò ha smentito categoricamente la notizia pubblicata dal Fatto Quotidiano e poi ripresa da altre testate giornalistiche o secondo cui il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, BAC, vorrebbe portare alcuni eventi delle Olimpiadi Invernale del 2026 in Svizzera, il presidente di Regione Lombardia Fontana ha invece detto che le cose si metteranno tutte a posto perché il lavoro sta andando avanti. Smentisco categoricamente che BAC voglia portare gli eventi né in Svizzera né in un altro paese e BAC nell'esecutivo quello che è sicuro, ma questo vale per ogni cosa della vita perché ci sono dei cronoprogrammi, ci sono dei lavori da fare, sono sotto gli occhi di tutti, i lavori non riguardano la fondazione e il comitato organizzatore ma siamo coinvolti per i identi motivi, siamo spettatori interessati e come ho sempre detto bisogna recuperare il tempo perduto. Giustamente se uno è committente di un progetto sta attento non solo all'esecuzione, non solo agli aspetti economici ma anche agli aspetti temporali. Stiamo parlandone costantemente, ci confrontiamo tutte le settimane anche più di una volta, credo che le cose si metteranno tutte a posto, il lavoro sta andando avanti quindi non mi sento particolarmente preoccupato. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Palazzo Marino a margine della presentazione degli europei di salto di equitazione che si terranno all'ipodromo SNAI San Siro ha commentato la candidatura di Milano come sede per la finale di Champions League nel 2026 e 2027. è una riduce della sfortunata finale di Istanbul per i miei colori ma è entusiasmante perché ho rivisto un'altra volta cosa vuol dire per una città ospitare la finale di Champions League. Quando il presidente Gravina mi ha chiamato per chiedermi se erano interessati a ospitare a San Siro la finale di Champions League ovviamente ho fatto il salto di gioia. Ora siccome ci sono due candidate noi e Budapest per i due anni uno dovrebbe essere. Ovviamente ho detto Gravina, guarda nel 2027 non sono più sindaco, vedi di portarla a casa per il 2026, spero che ci riesca quindi sconto molto nel 2026 e se poi sarà il 2027 andrei nello stesso per Milano. Ancora temperature da record, Milano continua a fare i conti con il caldo e l'afa, non solo Milano ma tutta Italia, negli ultimi giorni hanno già segnato la città e il paese. Per oggi e domani il Ministero della Salute nel suo bollettino sulle ondate di calore ha previsto un rischio di codice arancione per il capoluogo lombardo parlando di temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione. La temperatura massima percepita, sempre stando al Ministero, sarà di 38 gradi. Milano e la Lombardia verranno interessate da una nuova rimonta dell'anticiclone africano che porterà un'altra ondata di calore con le temperature e l'afa in deciso aumento e valori fino a 35-37 gradi in pianura fino a mercoledì. Sono queste le previsioni degli esperti di trebi meteo, notti tropicali con minime che in centro città faranno fatica a scendere sotto i 26-28 gradi centigradi e sensazione afosa molto marcata. Da metà settimana aumenterà il rischio temporale da prima sui rilievi, poi possibili anche in pianura. 900 persone ogni giorno ricevono pasti a domicilio a Milano, 105 mila consegne già effettuati dall'inizio dell'anno. Sentiamo l'assessore comunale al Welfar, Lamberto Bertoletti. Il servizio di consegne a pasti a domicilio è un servizio importante che il Comune di Milano effettua a vantaggio di circa 900 persone ogni giorno. In questi primi mesi dell'anno già 105 mila consegne abbiamo fatto. È un servizio che risponde a un bisogno primario, quello di avere un pasto, ma al tempo stesso è un'occasione di monitoraggio delle condizioni di salute e di benessere delle persone. I nostri operatori, sempre le stesse da tanti anni, incontrano tutti i giorni le persone, sono un punto di riferimento e hanno un momento anche di dialogo e confronto. È un servizio che si svolge tutto l'anno, ma che durante l'estate è potenziato nell'ambito di Milano aiuta estate. Un servizio proprio di sostegno anche alla solitudine e alla fragilità nei mesi più caldi e in cui magari le persone rimangono più soli perché i familiari vanno via per seguire con attenzione. Nuovo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico a Milano e nel resto d'Italia. L'agitazione è stata proclamata dal sindacato USB Lavoro Privato il 24 luglio. A Milano incroceranno le braccia per quattro ore. Tempi e modi sono ancora da definire. I dipendenti di ATM, la società che gestisce le linee metropolitane, tram e autobus, tra i motivi della protesta, le trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, ma anche i vendicazioni sul salario minimo, sulla sicurezza sui loghi di lavoro e sulla libertà di sciopero. L'ultimo sciopero dei mezzi pubblici risale a venerdì 7 luglio scorso, quando a incrociare le braccia era stata con file Faisa con 24 ore di astensione dal lavoro. In città l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie metropolitane era stato garantito dalle 8.45, alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Quella di oggi è stata una mattinata di disagi per i pendolari di Milano. Un non meglio precisato guasto agli impianti della stazione della metropolitane di Affori ha costretto a interrompere la circolazione dei treni lungo la linea gialla nel tratto tra Maciacchini e Capolinea Comasina, con la chiusura delle stazioni di Maciacchini, Dergano, Affori Centro, Affori Ferrovia Nord e Comasina della M3. Il guasto si è verificato nell'orario di punta verso le 8, quando le banchine erano affollate ed è stato risolto circa due ore dopo, quando la metropolitana è tornata gradualmente e lentamente in funzione. Ovviamente sono stati immediatamente operativizzati le linee sostitutive di superficie. Resi noti i nomi dei partecipanti alla XVI Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, tra loro l'Arcivescovo, nominato dai Vescovi italiani, altre figure legate alla Diocesi di Milano. Come ci racconta Anna Maria Vargini? La Sala Stampa Vaticana ha reso noto l'elenco dei partecipanti alla XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, in programma nelle due sessioni dell'ottobre prossimo e dell'ottobre 2024, sul tema per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione e missione. Sono 364, compreso Papa Francesco, i membri con diritto di voto, tra cui 54 donne, oltre 400 il numero totale dei componenti dell'Assemblea. Tra i partecipanti è folta la presenza degli Ambrosiani, a partire dall'Arcivescovo Monsignor Mario Delpini, eletto dalla Conferenza Episcopale Italiana, a rappresentare la Chiesa del nostro Paese. Nella delegazione CEI, tra gli altri, anche il Vescovo di Novara, nativo della Diocesi di Milano, Monsignor Franco Giulio Brambilla. Tra i Vescovi presenti, Monsignor Paolo Martinelli, oggi vicario apostolico dell'Arabia del Sud, ma per anni ausiliare della Diocesi. Altro milanese è uno dei segretari speciali, il gesuita padre Giacomo Costa, presidente della Fondazione Culturale San Fedele e vicepresidente della Fondazione Carlo Mario Martini. Tra i membri dell'Assemblea, designati ex nominazione pontificia, cioè direttamente dal Santo Padre, la Brianzola Suor Simona Brambilla, superiore generale delle missionarie della Consolata, e madre Ignazio Angelini, del Monastero di Viboldone, che sarà assistente spirituale. Oltre ai membri, a servizio della dinamica dell'Assemblea Sinodale, partecipano anche esperti e i cosiddetti facilitatori. Tra loro, padre Carlo Casalone, presidente della Fondazione Carlo Maria Martini, Monsignor Pierangelo Sequeri ed Erika Tossani, di Caritas Ambrosiana. L'elenco non è ancora completo, ha precisato il cardinale Mario Grech, segretario generale della Segreteria Generale del Sinodo. E fino a ottobre, ha aggiunto, ci saranno alcuni cambiamenti. Lombardia, Liguria e Piemonte consolidano il triangolo industriale con la cabina economica del nord-ovest. Un incontro estremamente proficuo, una collaborazione che passa sostanzialmente da una collaborazione quotidiana tra di noi ad una collaborazione strategica, in cui grazie a questo primo incontro abbiamo coinvolto anche gli stakeholders, per cui è un far sistema tra le tre regioni che coinvolge anche le aziende funzionalmente all'obiettivo di dove vogliamo arrivare insieme al sistema con alcune strategie settoriali, partendo da quelle che abbiamo scelto oggi. Prossima tappa in Lombardia, saremo felici e lieti di ospitare questo incontro per fare ancora uno step successivo in maniera positiva e concreta. Disastro per l'apicoltura lombarda. La stima del danno è di 8 milioni per le malcate produzioni primaverili. A fare i conti è l'osservatorio nazionale Miele che ha inviato al Ministero, ai membri della Commissione Agricoltura di Camera e Senato, oltre che alle regioni, il documento con la stima della produzione nei primi sei mesi dell'anno. In Lombardia la situazione è negativa, si legge nel documento, caratterizzata dalla scarsità di flussi nettariferi primaverili e dalla necessità diffusa di intervenire con la nutrizione di supporto. I raccolti di tarassaco sono stati azzerati dalla siccità. Nel mese di aprile alcuni apicoltori sono riusciti a raccogliere qualcosa sui flussi nettariferi di senape selvatica, ciliegio, fruttiferi, specie nelle zone collinari o sulla colza, ma si tratta di produzioni molto localizzate su pochi alveari. Nelle medesime zone, anche in apiari e limitrofi, c'è chi non ha ottenuto alcun raccolto e ha lasciato il miele alle api. Il maltempo a maggio ha compromesso anche i raccolti del miele di acacia. Le medie produttive provvisorie rilevate su alveari nelle principali province evocate alla produzione dell'acacia vanno da raccolti nulli o insignificanti di 1 o 2 kg per alveare fino a 5 o 6 kg per alveare. Quindi sarà un anno amaro per il miele lombardo. Un viaggio nel tempo è ciò che attende chi visiterà l'età dell'innocenza, il rinascimento a Bergamo e Brescia intorno al 1900. Un progetto del FAI, Fondo per l'ambiente italiano, a cura dello storico dell'arte Giovanni Agosti, con l'allestimento della scenografa Margherita Palli e le luci disegnate da Pasquale Mari. La mostra sarà aperta fino all'8 ottobre 2023 a Palazzo Moroni, in città alta a Bergamo. L'iniziativa è stata ideata e realizzata dal FAI con il prezioso contributo di Fondazione Cariplo e il supporto di Regione Lombardia. Nella grande sala da ballo al Piano Nobile, affrescata alla metà del 600, 12 capolavori del 500 Bergamasco e Bresciano, provenienti da collezioni private, sono esposti per l'occasione. Sono opere di Lorenzo Lotto, Andrea Previtali, Giovanni Gerola Mostavoldo, Alessandro Bonvicino, Detto Moretto e Giovanni Battista Moroni. Sentiamo l'intervista. All'idea iniziale di esporre in Palazzo Moroni 12 capolavori, tutti di collezioni private, del 500 Bresciano e Bergamasco, si è aggiunta la suggestione di Giovanni Agosti e di Margherita Palli, di collocarli in un sogno, nel sogno, in un sogno di primo novecento, quando questi quadri erano collocati in atmosfere come quella che vedrete. È ricostruita nel salone da ballo di Palazzo Moroni come fosse un grande salone di primo novecento. Quindi un'operazione un po' sé, ma di straordinario fascino e alla fin fine, senza colpi di testa, senza culo di teatro, senza colpi di teatro, senza colpi di genio, che noia la vita. Quindi questo sogno durerà fino all'otto ottobre e vi invitiamo a venire a vederlo. C'è una sorta di magia, un segno nel destino, dietro la nascita della canzone Cambiare l'acqua ai fiori, del cantautore Tarantino Classe 1996, attualmente a Torino in arte Edo da Capo, al secolo Edoardo Trombettieri. Lo vedete in queste immagini, il repertorio è un brano incompiuto perché dovete sapere che l'alluvione che ha colpito la Romagna lo scorso maggio spiega alla Creme Records, etichetta discografica indipendente di base a Milano, ha rifatto distrutto lo studio di produzione di Francesco Ponz, produttore della canzone a cui stava lavorando da tempo. Era rimasto solo un file wave che per puro caso aveva salvato e da qui si è ripartiti. Il progetto infatti è andato perso tra gli hard disk ormai fatti più di fango che di altro. Il brano dunque non è mixato, non è nemmeno finito in produzione, si è comunque voluto salvare il salvabile con un processo di mastering che ha permesso di renderlo pubblicabile. Dal 25 luglio è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano è stato scritto dall'artista insieme a Francesco Ponz ed è caratterizzato da un tappeto sonoro estremamente delicato come una carezza, un pensiero intimo verso una persona speciale, espresso partendo dalla poesia del quotidiano. Trombettieri ha un passato da Bascher, artista di strada per le strade di Salonico e Bologna e ripeterà questa esperienza anche a Torino. Era questa l'ultima notizia di questo telegiornale. Vi ricordo subito dopo le previsioni del tempo l'appuntamento con Luciano Rindone e il telegiornale sportivo. Quindi dalle 20 alle 23 non perdetevi l'appuntamento con Nova Stadio, tutte le ultimissime notizie di calciomercato, l'approfondimento delle notizie di giornata e tutte le indiscrezioni che riguardano appunto questa sessione estiva della campagna acquisti e vendite del calcio. Grazie di averci seguito dal TGN e l'augurio di una serena serata. Arrivederci.